Ehi! Ehi! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Dai, dai, dai! Pazzo Matteo! E andiamo subito qua, porca vacca! Allora... Abito, io voglio il caffè e una pasta! Nooo! Dai, dai! Velato! Ti spartti io ce l'hai? ...dana botta non fuori! ...dana botta non fuori. No, ma non sono più ragione! ...dana botta non fuori. scusate scusate si tratta per la fumata si tratta per la fumata si tratta per la fumata il nostro uscio si tratta per la fumata ma con la sigara quella america quelle elettroniche si tratta per la raias ma guarda quell'elettrone quelle elettroniche che fosse quel faceva una pulsata cosa si no ma faceva un fumatore no ha fatto il vapore si si ha fatto il vapore non è che scusate ma è come si chiama? un piano due 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 si voi se vuoi la sta palla, eh cazzo vedo qua la moletta che diceva? eh sì ecco 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 Dio Brighella bravissimo Matteo cazzo oggi ha convocato a Curs a chi? a Naccai se ne entra a Catena non fa un gol io avviso e poi altro perché ti conosco io eh? che me sei fatto? è meglio tirare giù il cazzo c'è o no? per me un dialtro invece è morto Marteo Matteo, dai, scaldati dai, di qua, di qua porca vacca, porca vacca dai, porca vacca dai, porca madonna dai, bravo pizza bravo la buca è la buca è perché bravo Matteo se ne voglia do stanza amonisci e c'è tre che ne fa ho già visto anche l'alba anche l'alba c'è stato 5 poi c'è stato seduto in camera Giappiero, capta Domenica dopo, munita al portiere ha perso il tempo bene, davvero sono palana non lo so sono, sono allora dopo la fine mandato al 94 la palana è contratta la Domenica è un facoltà con te l'alba con te l'alba se la partite di Domenica al 94 e gli dice ma che era come è che dobbiamo non è ne ha che e così e orio di Grazie 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 Sì, con un mini ben 5, Roma-Napoli, Alessio, Inter, Milano, Inter, Inter, Roma-Napoli, Sir, Inter, Roma-Napoli, Alessia, campione, Vai, dai, tu! Vai, dai, tu! Abito! Questa non è stata bella, eh! Non ho bisogno di aiuti, Abito! 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 Abito! Non ho bisogno di aiuti, Abito! Abito! Abbito! Abito! 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 Questa c'è d'andata lui, lo recupero d'andata. Dai che qua! Ce l'hai davanti? Dai ragazzi, dai! Più romani! Brava, eccomi! Dai camicia, dai! Ma tanto vedratti la cabaretta! Non piccassi giù! Ottiii! Vai via! Il tempo è in discesa, infanziti dai! Ancora! Di qua! Ehi! Nooo! Cos'è? Stai abito, sei fuori! Com'è te l'azzo? Non ho bisogno di l'aiuto! Non ho bisogno di l'arbitro! 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 Ma vai a cagare! Dai la pò riguardo! Eh! Sì! Eh che sono tutti vecchi, poi! Un po' crollano! Arbitro il mare ti spogliato a cose con te! Quarantesimo Questa è una squadra scappuglia Ma merita un cerchio Guarda che ti riesce a spegnare la porta Non c'è il posto per un video partito Poi all'esterno Ma tu come non è? Insegnati i due giorni E poi il mio camionente è colpa Questa è una squadra Quella è una squadra Davvero? Davvero? Vani, abito! dopo il palco, vedi? Aspetta in questione, una c'è! No, no, una c'è! Ma dovrei dire così! Si è accompagnata! Scalpuni! 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 Sì! Strapato! Forse può essere efficienti 많은利burg Ah! Cos'è avvent' casa? Cosa avvent's pavamo fa'? Non ho avuto where files Spessami! Stas att tarda! Sì, non sopportare, non sopportare. Non sopportare. Non sopportare, non sopportare. Non sopportare, non sopportare. 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 È arrivato a scarico? No! E' arrivato a scarico. Esatto! E' arrivato a scarico. E' arrivato a scarico. Quello che non ha mai mai trovato. Ma quella prima non era mai. Questo si è visto bene. Ma prima. Da qui si è visto bene anche prima. Sì, mi so bene perché lui è nero, capito? Ah, si mi sberta? La bianca. No, non ha potuto sbagliare, Harry. Sì, capavetta. Sì, capavetta. Ho fatto quasi bene. Fallo abito! Allora, guarda questa partida che mi hai, con Roma e Negrò. Allora, guarda! Porca baracca, primo! Allora, occhio! È il tuo uffio. Miro il gol, Roqueo. Dai, 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 non tra! Non t'anno uno! Mi gico, bravo! Non lo so! Non lo so! Veloce, Andrea! Buon bocco! 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 Ah! C'è buon sul catello, dai. Forza, ragazzi! dai non ha sempre difficolti sono indagati tutti è tutta che numero aveva il cardinetto? il cardinetto che numero aveva il cardinetto è il cardinetto è il cardinetto è il cardinetto bravo Marco bravo Marco bravo Marco facciamo le cariche di fianco al cibo perché questo si carica il tuo senso una batteria guardando cosa che hanno parecchi anziani insomma perdendo il meno ce ne gioi vai 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 cardinalo dai mossa questa mutande ma dai con il mio papà qui che cazzo e queste sono raggi non lo voglio mettere cazzo vai famaglia bravo Matteo dai che incoppi ma dai bravo Luca paura No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ma fa anche questa cosa lì dai ragazzi stavolta la Reina per la vede nel partito dai Luca se non avete un match facciano la Juventus faccio il canone porca occhio va bene va io vengo a vinto vengo a vinto grazie allora per fare la buona messa è un errore proprio per il caso vieni finali grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti